Ecco, e ora eccoci a percorrere di nuovo il tunnel che già erano stati iniziati i lavori dal 24, 25 e 26 nel settembre e tra poco lo stiamo per imboccare tenendola a sinistra che d'altra si prosegueva fuori dal tunnel e ora ci stiamo per entrarci e qui dall'altra parte non è niente il led e sto sotto e siamo sotto come potete vedere che le luci non sono sufficienti cioè l'illuminazione non è stata sufficiente e hanno messo qui lo spalto e l'olio che in caso che si scivola e se frena poi per guadagnare dove se vogliono sostituire qualche pannello dovrebbero guadagnare tanti soldi ora ti ci do che sta attenti qui asfalto sulla pavimentazione e se non c'è e se non c'è che perdono come? non è? 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 perdono perdono cosa? tutto infatti c'era tutto che pendeva prendiamo pendeva andato qua c'è quasi il termine del tunnel ora dobbiamo prendere subito l'uscita di Ponte Milpio e ora andiamo a destra che ho visto l'uscita e e si esce prendendo l'uscita Ponte Milpio